Ciao a tutti, è tutto un nuovo video, oggi voglio parlarvi di Salenditana, Bologna finita adesso ragazzi io questa partita la volevo vedere perché vedendo la classifica ieri ho detto vuoi vedere che il Bologna ragazzi, zitto zitto, si mette il quarto in classifica momentaneamente perché poi devono giocare Roma e Fiorentina, però ragazzi ragazzi ho visto la partita e effettivamente ragazzi il Bologna ora si trova il quarto in classifica quindi è in zona Champions ragazzi, addirittura sopra il Napoli questa ragazza vi fa capire anche qual è il livello ragazzi della Serie A di quest'anno ma sono diversi anni che la Serie A a livello basso, niente da togliere al Bologna ragazzi però se il Bologna si trova sopra lì, si trova il Napoli che anno scorso ha vinto lo Scudetto quest'anno si trova a quinta a 12-14 punti dalla vetta e il Bologna ragazzi zitto approfitta e vince la partita contro la Sardinitana allora ragazzi che dire, primo tempo dominato assolutamente, assolutamente dal Bologna la Sardinitana non so se ha fatto un cross di, come si chiama, se non mi hanno il nome ragazzi del capitano in area, ma l'unico cross che ha fatto la Sardinitana è che Candreva, scusate Candreva l'unico cross di Candreva nel primo tempo, ma poi neanche così insidioso e invece ragazzi il Bologna ragazzi primo tempo ha dominato la partita, l'ha dominata e Zirzè ragazzi ha fatto una doppietta un attaccante che si trova dove deve stare l'attaccante ragazzi il primo tiro con il suo compagno, se non ricordo chi, tira in porta il portiere la rinvia e Zirzè stava lì e ha messo in porta e il secondo gol ragazzi mi ha messato un gol anche più importante perché lui anche se la Sardinitana dava la palla indietro al portiere, lui stava lì vicino il difensore ha dato una palla bruttissima al portiere Zirzè si è subito infilato, ha fatto la finta sul portiere, ha messo la palla in gol 2-0, quindi doppietta per il Bologna e il primo tempo ragazzi finisce così perché poi non c'è stato niente ma diciamo sempre il Bologna ragazzi attaccava, attaccava sempre Bologna attaccava, attaccava, attaccava nel secondo tempo penso che il Bologna aveva visto che siamo 2-0 rallentiamo un po' e poi giustamente Inzaghi ha fatto entrare Simi nella Sardinitana e diciamo che si è un po' invertita la partita e più andava avanti la partita nel secondo tempo più la Sardinitana attaccava, attaccava, attaccava e ha scelto a trovare un gol a un quarto d'ora dalla fine con Simi su assist di Candreva e ha messo la palla sul secondo palo ben tirato e diciamo che con Simi la Sardinitana in avanti ha trovato molte più occasioni si buttava in aria e cercava di fare qualche tiro e poi niente ragazzi il Bologna arrancava un po', poi al novantismo c'è stato un fallo della Sardinitana su Salame Kerr, proprio al limite sulla linea di fondo campo che poi dicevano che era fuori dal campo e la Sardinitana invece di accelerare i tempi protestava, faceva falli dovete vincere, dovete pareggiare, zitte, fate fare questo calcio, questa posizione niente, una posizione ragazzi e alla fine al novantacinquesimo quasi va di testa la Sardinitana e non proprio a fil di pallo però ha provato a pareggiare ma non ce l'ha fatta quindi ragazzi devo dire che il Bologna ha meritato di vincere quindi si trova quarto in classifica ragazzi quindi niente, adesso vediamo cosa faranno questa sera Roma e Fiorentina e tanto il Bologna ragazzi si trova quarto in classifica ragazzi fino a fine forse di vento, smettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi vi fate iscrivere e ci vediamo un po' sul video ciao ragazzi, ciao 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 ciao